ciao e bentornato o bentornata nella nostra rubrica è tutto chiaro sono francesca guarda l'immagine a quale modo di dire fa riferimento legarsela al dito è un'espressione italiana che significa ricordarsi di qualcosa in modo da non dimenticarla si immagina di legare al dito un filo un laccio come promemoria all'origine di questa espressione ci sono molte tradizioni antiche ce n'è una anche romantica i cavalieri legavano al dito della loro amata un filo d'oro in segno di promessa d'amore in origine il gesto di legare un filo un laccio al dito era per non dimenticare qualcosa di importante di fare questa cosa importante ma in realtà poi questo espress questa espressione ha assunto una connotazione negativa nel senso di vendetta di rancore infatti se qualcuno ti fa un torto e tu dici me la leggo al dito significa che non ha intenzione di dimenticare il torto subito e magari conservi un sentimento di rancore verso quella persona ma possiamo usare questa espressione anche in modo ironico ad un'amica che non accetta un mio invito potrei dire a me la sono legata al dito è bene questo verbo legarsela al dito come vedi è un verbo pronominale perché è composto da due pronomi i pronomi riflessivi che cambiano a seconda del nome e poi la particella la che rimane invariata ricordiamo però che quando usiamo questo verbo in un tempo composto come il passato prossimo nell'esempio che ho fatto il participio passato deve concordare con la particella la spero sia tutto chiaro scrivimi nei commenti se anche nella tua lingua c'è un'espressione simile sono curiosa di scoprirlo io ti aspetto al prossimo video me la lega al dito è ciao ciao